Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come bussare gli FPS su Minecraft sulla nuova versione 1.20, 1.20.1 ma queste prestazioni che aggiungeremo su Minecraft andranno benissimo anche sulle future versioni quindi in questo caso prima di iniziare ti consiglio di iscriverti, attivare la campanellina e di lasciare un like e se hai problemi dopo aver visto tutta la guida commenta e io ti risponderò e vedremo insieme se posso aiutarti a risolvere un po' il lag, il frame lag, il freeze, il crash tutte queste cose qua che ostacolano così il nostro divertimento sul gioco quindi in questo caso andiamo un attimo su impostazioni grafica scrivi sulla barra della ricerca impostazioni grafica andiamo su sfoglia, dobbiamo aggiungere Minecraft quindi direttamente l'applicazione EXI di Minecraft non devi aggiungere l'icona sul desktop, devi aggiungere il programma EXI che sta nella cartella di Minecraft quindi tu vai su esegui, scrivi esegui, ecco esegui percento local app data percento, vai su ok vai su app data, roaming, vai su Minecraft scendi fino a giù fino a trovare l'applicazione di Minecraft io ovviamente non ho Minecraft comprato questa è l'applicazione tu clicchi qua sopra su questa barra proprio qua sopra perché così facendo evidenzierà tutto questo percorso fai copia chiudi andiamo su sfoglia vai di nuovo su questa barra e fai incolla e fai aggiungi e questa ti porterà così nella cartella di Minecraft ovviamente qua sopra poi mettete la vostra applicazione e fate aggiungi una volta fatto stiamo sull'applicazione di Minecraft cliccate su opzioni e andate a mettere la vostra scheda video prestazioni elevate darà così più prestazioni al gioco e fate salva una volta fatto andiamo un attimo sulle impostazioni di controllo di Nvidia quindi se tu non hai il pannello di controllo di Nvidia in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà a scaricare questo pannello pannello Nvidia Control Panel questo video è più per Nvidia per AMD invece c'è un programma che si chiama AMD Radeon software tu lo scarichi e da lì potrai anche fare varie cose sui giochi quindi ovviamente io vado un attimo su Nvidia Control il pannello di controllo di Nvidia da qui faremo veramente tantissimi cambiamenti cambiamenti su Minecraft quindi andiamo un attimo su andiamo su gestisci le impostazioni 3D ok in questione le impostazioni 3D impostazioni programma aggiungiamo così il programma quindi scendi fino a giù fino a trovare il programma da aggiungere qualsiasi potete fare qualsiasi cosa qua sopra aggiungendo non solo Minecraft ma anche altri giochi quindi come al solito sempre su questa barra andiamo nel percorso file di Minecraft e mettiamo l'applicazione di Minecraft ok ed eccoci qua ora da qui faremo grandi cambiamenti ora sulla ridimensionamento immagine andremo a mettere quello che ci consiglia Nvidia disattivato sull'anti-aliasing della correzione gamma mettiamo attivato sull'anti-aliasing di FX doppia A mettiamo disattivato tutto quello che ci consiglia Nvidia anche qua sopra il 4x questo escludi qualsiasi impostazione dell'applicazione l'anti-aliasing trasparenza mettiamo disattivato il buffering triplo disattivato cuda CPU della GPU mettiamo tutte questa è una cosa che già aveva messo la scheda video compatibilità dell'OpenGL se avete l'OpenGL sulla vostra scheda video state ancora meglio il filtro anisotropico mettiamo 8x il filtro struttura restringimento bordi il filtro struttura ottimizzazione campione disattivato il filtro struttura ottimizzazione trilineare disattivato sul filtro della struttura qualità qualità fotogrammi pre-renderizzati per la realtà virtuale mettiamo su 1 frequenza fotogrammi massima tutto quello che ci consiglia il pannello di NVIDIA la frequenza dei fotogrammi massima applicato su questa cosa qua non facciamo quella di NVIDIA andiamo ad attivarla e mettiamo fino a 200 GPU rendering OpenGL selezione automatica metodo di presentazione Vulkan OpenGL quindi ovviamente per chi ha OpenGL e supporta l'OpenGL sulla scheda video ci sarà questa impostazione andiamo a mettere automatico modalità bassa latenza disattivati modalità di gestione dell'alimentazione potenza ottimale multi frame sempre e doppia A su questa cosa qua questa non l'ho capita però NVIDIA se ci consiglia questo dobbiamo mettere questo ottimizzazione con triad mettiamo automatico con la sincronizzazione verticale mettiamo disattivato niente impostazioni 3D tecnologia monitor compatibilità G-Sync adesso vi faccio vedere dove attivare il G-Sync se lo supporta il vostro monitor compatibilità G-Sync velocità di aggiornamento preferita mettiamo la più elevata disponibile e facciamo applica sì una volta applicato tutte queste impostazioni andiamo un attimo sulla modifica della risoluzione se ricordo bene G-Sync imposta G-Sync ed eccolo qua abilità per la modalità schermo intero quindi abilità G-Sync io supporto il G-Sync su questo monitor del da gaming e lo posso applicare posso impostarlo e poi applicare e una volta fatto avviate il vostro Minecraft e vedete un po' se ha dato così maggiori prestazioni e se avete problemi commentate e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao